Netflix propone molti film e serie perfette per regalare agli utenti una serata o l'insegna del relax. Disponibile un film acclamato dalla critica con Alessandro Borghi, e tanti attori amatissimi. Con l'arrivo del fine settimana Netflix rappresenta una validissima opzione per potersi concedere qualche ora di relax in compagnia della propria famiglia. Tante scelte caricate ogni mese per permettere al pubblico di poter selezionare secondo i propri gusti, e le preferenze che accomunano tutti. Serie di grande successo e film acclamati hanno raggiunto ulteriori traguardi proprio grazie alla piattaforma. Quest'ultima offre la possibilità di poter visualizzare le scene più intense in qualsiasi istante, e non solo dal televisore. Netflix è infatti a portata di un click anche dal proprio cellulare, così da poter seguire sempre gli episodi delle serie del momento. Netflix. Titolo e trama del film con Alessandro Borghi. Avere a disposizione categorie e generi differenti su Netflix, è un modo strategico offerto dalla piattaforma per poter selezionare in modo rapido il film che più rispecchia il proprio genere. Ad ogni modo una classifica di gradimento è offerta così da poter, in caso di indecisione, selezionare seguendo anche i consigli degli utenti. C'è un film drammatico acclamatissimo dalla critica che di sicuro incollerà il pubblico allo schermo, ovvero Fortunata. Il racconto si concentra sulla vita di una donna, interpretata da Jasmine Trinca. Quest'ultima veste i panni di una madre che con determinazione e difficoltà cresce la figlia Barbara. Per poter tirare avanti, la protagonista si divide nelle varie case romane per pieghe e colori ai capelli alle sue clienti, il suo obiettivo è però quello di potersi aprire un giorno un salone tutto suo. Il papà della piccola la tormenta, i due non sono separati per vie legali ma l'uomo non fa più parte della sua vita. Nel cast anche Stefano accorsi nei panni di uno psicologo infantile e Alessandro Borghi, un vecchio amico di Fortunata dal passato difficile. Una storia drammatica ricca di spunti sui quali poter riflettere. La regia è di Sergio Castellitto, un grande attore italiano molto amato. Il successo del film è probabilmente dimostrato dall'unione di tutti i protagonisti che hanno lavorato alle varie scene. Intensità, grande elasticità attoriale e professionalità indiscussa li uniscono portando sullo schermo un risultato eccezionale. Se sei quindi alla ricerca di un film appassionante per poter trascorrere una serata immerso in un nuovo racconto, Fortunata è la scelta consigliata per te. Ad ogni modo Netflix propone tantissime novità, di sicuro così gli utenti avranno solo l'imbarazzo della scelta.